E' successo che cosa due anni fa? Il 3 dicembre siamo morti? Sì, due anni fa è entrato in lavoro con un egistiano e è morto il castellato del muro, Muhammad. E poi alla fine non si capisce niente come si è morto perché per la sicurezza. Per la sicurezza alla fine ha scoperto l'operatore senza prendere la mano. Il giorno vuole venire i carabinieri per controllare come si stanno e non si stanno le cose. Una volta il trattore hanno bruciato proprio tutti. Così quando viene il carabinieri vogliono fare il loro controllo. Come si è morto, il trattore è bruciato. Hanno bruciato il trattore per non far controllare i carabinieri. C'è un processo in corso su questo. Dopodiché la cosa è finita così, non si sa cosa c'è sul sacco. Stanno lavorando i ragazzi dentro. E dopo questo fatto qua, attualmente c'è un rappresentante per la sicurezza vostra dei lavoratori? Non c'è, non c'è. Non c'è, neanche dopo una partenza. C'è un avviso che entra qui prima. Un avviso che viene qui prima. Quando viene i accelli per controllare. Ragazzi, devi mettere un bel arancione e un cartellino. Praticamente fanno l'avviso prima di controllare. Però il problema di venire loro non sono... Zero sicurezza. Però quando viene sicuramente perché c'è un avviso che fanno controllare. Sarà tutto pronto. Hanno dato fuoco al trattore. Al trattore. Prima che arrivano i carabinieri a fare le indagini. Non so come è morto. Ha bruciato automatico. Quando sono venuto la mattinocchio, da stesso la trattore. Ho detto ragazzi non lo so perché lavoro ne dentro. Quando è uscito fuori, il trattore sta bruciando. Era poco. Automatico. È arrivato là su, l'uccello o qualcosa. Non lo so. L'addio ha mandato una bomba. Autoconduzione. Comunque ha lasciato lo solo così. Forse ho mandato da... Dopo due ore esattamente. Esattamente. È venuto un altro trattore. È nuovo. Tutto preciso, tutto a posto. È venuto. E questa è quella che stava usando lui. L'autista. E come è già morto? Questo trattore è nuovo. C'è tutti. Significa che ho colpa del trattore. Posso fare ebriare o qualcosa. L'ora hanno detto questo. Alla fine hanno dato tutta la colpa. Sì. L'autista. Hanno accusato il lavoratore di aver dato fuoco anche al trattore. E poi... È ancora lì. Il trattore è ancora qui. È ancora lì. Assolutamente. Come è... Hanno detto che... L'errore... L'errore è stato dell'autista. È stato dell'autista. L'autista è morto. E come hanno giustificato quei trattori? E come hanno giustificato il trattore che poi successivamente, prima che arrivassero i carabinieri fosse bruciato, ha preso fuoco da solo? Sì. È come uno trattore che... Quanti figli hai dalle turchi? Ah, occupo. Un trattore che non va avanti bene come si fa. Buon... Buon... Buon...